Un rapporto fondamentale che ormai dura da 64 anni qui a Sesto Fiorentino. 750 milioni di impegno nei prossimi due anni è significativo rispetto alla partnership che Lilli vuole fare con l'Italia e continuare ad investire in questa strategia non solo di produzione ma anche di ricerca e sviluppo dei nostri prodotti di una pipeline che è sempre più ricca di nuove soluzioni terapeutiche per i pazienti. E quali saranno quindi le ricadute sul territorio per questo nuovo importante investimento messo in campo dall'azienda? Non solo un grande contributo al PIL, locale e nazionale, ma anche un forte contributo occupazionale di trasferimento scientifico rispetto proprio ai 50 studi clinici che noi oggi abbiamo attivi sul territorio e a livello nazionale. Vogliamo quindi continuare a valorizzare all'interno della nostra attività quelli che sono i nostri partner sia a livello locale che a livello nazionale. Qual è la peculiarità del territorio di Sesto Fiorentino oltre alla storia consolidata di Lilli qui? È un territorio che ha saputo fare partnership con l'industria e quindi ha saputo valorizzare il contributo che l'azienda può dare al territorio e viceversa costruire proprio un sistema capace di aiutare chi vuole investire in questo territorio. Per noi, come dicevo, è una storia lunga e ci auguriamo, vogliamo che continui ancora nei prossimi anni portando proprio qui lo sviluppo e la produzione dei nostri farmaci più innovativi. Vogliamo sfruttare le competenze, le qualità delle persone che lavorano in questo territorio, in Toscana e in Italia e vogliamo continuare a generare valore per questo sistema che porta l'innovazione ai pazienti e alle persone di cui ne hanno più bisogno.